ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e anche oggi andremo a vedere un prodotto utile utilissimo e a ottimo prezzo ragazzi per i nostri impianti fotovoltaici fai da te tanti di voi mi dicono fox ma io non so che prodotti scegliere in questo caso parliamo di che cosa di un quadro ok di uscita dall'inverter come vedi in questa immagine nell'immagine ti mostro che cosa ragazzi ti mostro l'inverter ok perciò il tuo inverter in uscita cosa c'ha fase neutro perciò monofase 230 volt bene grazie a questo quadretto già preimpostato con tutti i componenti tu basta acquistarlo e andare a cablare l'ingresso ok che questo che alla fine l'uscita del tuo inverter e poi l'uscita del quadretto ragazzi che è l'uscita per alimentare il tuo appartamento i tuoi carichi in corrente alternata il quadretto viene venduto spedito così come lo vedi a sezionatore di isolamento allo scaricatore a il regolatore di voltaggio integrato a un altro magnetotermico ok per la protezione della linea questa a valle perciò andando a prendere questa scatoletta ragazzi avrete tutto ciò che vi serve per la corrente alternata in uscita io consiglio di inserire anche un'altra scatoletta con i vari differenziali ovviamente anche se il tuo appartamento già ce li deve avere perciò se tu già ce l'hai come spero come di regola di normativa allora va bene se non ce l'hai ricordati di proteggere il tuo appartamento con i magnetotermici differenziali ragazzi è una cassettina piccolina carinissima come vedi le dimensioni sono 21 per 21 per 10 e questo serve appunto per proteggerti e dal eventuali cortocircuiti sovraccarichi in corrente alternata qui ti mostra come sono fatte le varie connessioni abbiamo intanto il di il magnetotermico ok entra esce va nel regolatore di tensione esce e va nello scaricatore e poi va in quest'altro ok sono da 63 ampere questo 400 volt lo scaricatore 275 volt e poi il regolatore item anche 63 ampere voltaggio 230 volt perciò è il magnetotermico 400 volt massimo di entrata e 63 ampere ragazzi anche ottimo come portata non è striminzito piccolo eccetera eccetera troverai sotto in descrizione il link qui si presenta benissimo una normalissima cassettina come quelle appunto che io ho creato però ragazzi io ho acquistato tutto sfuso e ho avuto più sbattimenti ovviamente voi invece con con questo potrete acquistarlo e montarlo alla svelta ragazzi se il video ti è piaciuto lasciamo un like iscrivete al canale ripeto sotto in descrizione troverai il link poi anche eventualmente acquistare opzionalmente questo che anche un display che ti indica eventuali errori se ci sono innalzamenti di tensione in ingresso potrai comunque mettere sempre a parte una scatoletta con un contatore di kilowattora come ho fatto io se il tuo inverter è semplice come queste non ha integrato una funzione smart e allora ti consiglio di metterlo un bel kilowattora un lettore un contatore kilowattora così saprai sempre quanta corrente il tuo impianto ha prodotto ragazzi per questo video è tutto ti aspetto al prossimo ciao e al prossimo video